grazie a tutti allora questo talk parla di di varie librerie python che durante insomma per noi programmatori sono molto comode se se dobbiamo programmare in modo veloce e ci aiutano comunque a scrivere codice più pulita io sono daniela basciano segno cloud engineer da più di 15 anni che lavoro in questo settore programmi sbagliati linguaggi però preferisco scrivere in python e lavoro in partec che ringrazio la possibilità di essere qui la mia società diverse sedi in italia a milano roma pistoia e pomezia e facciamo da assistente creator cloud insomma parecchie cose interessanti e che potete leggere anche la mia maglietta che cosa vedremo oggi vi userò 25 librerie che fanno parte della mia cassetta degli attrezzi e spero spero entrino a far parte anche della vostra per ognuna di esse ci sarà una il titolo il payoff il logo il link al sito vi spiegherò come funziona una piccola descrizione e vedremo dei piccoli esempi di utilizzo il ritmo sarà abbastanza sostenuto perché ci sono molte cose di cui vorrei parlarvi perché questo talk perché è quello che avrei voluto seguire io quando inizia a studiare il python e devo ringraziare roberto polli che mi ha spinto a presentare il talk e anche erico bianchi per chi mi ha aiutato con le slide iniziamo subito con la prima libreria che è click un package per la creazione delle command line interface in maniera molto elegante con pochissime riche di codice click praticamente sostituisce get ops che è molto più macchinoso e anche io utilizzavo anche begins che però non è molto supportato e sviluppato le sue principali caratteristiche sono il supporto dei sottocomandi la generazione automatica dell'help e tutta quanta la gestione delle opzioni quindi dal valore di default il controllo dei tipi e la descrizione questo qui è un piccolo esempio tramite i decoratori noi definiamo i parametri eventualmente impostiamo il valore di default ossia un booleano e anche il messaggio di help che lui poi utilizzerà per costruirsi l'help in automatico prende anche la doc string della funzione anche quella lì la userà per costruire l'help e questo qua in automatico è l'help che ci genera lui e ovviamente ha riconosciuto le opzioni che cont prende come argomento un intero e name una stringa l'altra libreria è arrov arrov offre un approccio logico e facile utilizzo per creare manipolare formattare e anche convertire date orari e time stamp estende il tipo dei time di python per colmare alcune sue lagune di funzionamento infatti vi aiuta a lavorare con le date orari con meno impostazione e codice più pulito perché arrov se già i bri a standard alla questa gestione delle date perché la i bri standard non funziona dal punto di vista dell'usabilità infatti ci sono troppi moduli c'è dei time time calendar day to deal by tz e altri e ci sono anche tantissimi tipi diversi c'è date time date time tz info time delta e relative delta eccetera e anche la conversione tra formati è molto verbosa con arrov insomma rende questa gestione tutta molto più semplice basta fare import arrov e la creazione di un oggetto arrov si fa con otc now oppure soltanto con now è possibile passagli la zona e tramite arrov shift si può citare in avanti o indietro l'orario anche i giorni e con arrov get crea un oggetto arrov a partire da una stringa o da un time stamp estende abbiamo detto il tipo time stamp ma non lo nasconde con format possiamo stampare la nostra data e volendo possiamo passagli anche il formato che preferiamo esiste la funzione humanize per stampare la data in modo comprensibile insomma in testo e anche il dehumanize che ad esempio possiamo passagli due giorni fa e lui ci crea l'oggetto dei time la prossima libreria è colorama colorama per per colorare l'output del nostro programma esistono dei escape anzi che sono utilizzati soprattutto sui terminali linux e mac e colorama estende questa modalità anche su windows perché converte il seguente le sequenze asci con chiamate win32 questo qua gli permette anche per le applicazioni già esistenti che utilizzano sequenze asci per produrre output colorato su linux e mac di girare anche su windows semplicemente invocando il metodo colorama in it questo è un esempio in windows la chiamata in it filtra le sequenze di escape anzi per lo standard output e standard error e le sostituisce con la chiamata win32 equivalente mentre per le altre piattaforme in it non ha nessun effetto però comunque si è bene metterlo per la compatibilità struct log è una libreria per la stampa del log supporta tantissimi tipi di formati e opzioni è molto stabile viene stata in produzione dal 2013 e abbraccia tecnologie moderne come async.io è flessibile può stampare il log colorato a secondo del tipo di messaggio e gestisce il log come come un dizionario quindi è possibile anche associare preventivamente una coppia chiave valore con bind e poi verrà utilizzata in tutte le stampe successive del log supporta anche diversi formati se per esempio volessimo l'output in formato json magari per inviarlo a un sistema di aggregazione log come lk o grey log basta indicarli che il pre-processo era un json renderer e abbiamo l'output in formato json book è un'altra libreria per la creazione di grafici tra l'altro l'ho scoperta qui a Paganit supporta tantissimi tipi di grafici da quelli più semplici alle dashboard più complesse e con book puoi creare visualizzazioni basate su javascript senza scrivere una riga di codice javascript grazie queste qui che vedete qui è soltanto una piccola parte di tipi di grafici che è possibile creare con book il suo obiettivo è fornire una costruzione elegante e concisa di di grafica i grafici sono interattivi e funzionano bene anche su sette di dati molto grandi questo qui è un piccolo esempio però il tipi di i tipi di grafica supporto sono veramente tantissimi utilizzando un paio che per creare una matrice n per n dove ogni ogni pixel ha un colore diverso e questo qui è l'outfit dell'esempio prossima libreria è ps utile è una libreria cross platform per prendere informazioni sui processi e il monitoraggio del sistema implementa diverse funzionalità offerte dai strumenti di riga di comando unix e quindi abbiamo detto che cross platform infatti supporta le piattaforme linux windows mac cost system bsd anche sun solaris e ax allora un po di esempi per esempio cpu count ci torna il numero di cpu oppure cpu percent la percentuale di utilizzo disk usage è l'occupazione della partizione e user sono gli utenti attualmente loggati ag è un modo più veloce moderno per creare epi è molto semplice da utilizzare le piai possono essere invocate sia localmente sia tramite http o tramite la riga di comando è stato scritto pensando molto al consumo delle risorse infatti utilizza risorse solo quando necessario e è compilato con cpython per ottenere anche prestazioni migliori questo qua è un piccolo esempio c'è il nostro nostra funzione tramite il decoratore definiamo i parametri che che prende e c'è un decoratore c'è l'esempio e i parametri della funzione sono quelli che noi invocheremo nella nostra piai semplifica quindi l'esposizione anche di più versioni della stessa piai basta semplicemente specificare quale versione o intervallo di versioni supporta l'endpoint lanciandolo in quel modo viene messo in esecuzione e sta in ascolto su localhost 8000 e possiamo invocarla e genera automaticamente delle pagine di errore e di documentazione usando le docstring e type annotation del codice esegue anche quindi la validazione e conversione degli argomenti così qua un piccolo esempio la prima la prima curl non ha passato nessun parametro e mi ha detto che necessitava di name edge e nella seconda ha risposto insomma con il messaggio della funzione la prossima libreria di cui voglio parlarmi è Scrapi Scrapi è un framework open source ad alto livello di crawling e web scrapping è utilizzato quindi per eseguire scansioni di siti web ed estrarre dati strutturati dalle loro pagine può essere utilizzato per molti scopi dal data mining al monitoraggio e ai test automatizzati questo qua è un piccolo esempio fa la get della url e poi c'è il metodo parse che viene invocato per gestire la risposta caricata per ognuna delle request effettuate una cosa interessante di Scrapi che vorrei farvi vedere sono i selector quando si esegue lo scrapping di pagine web l'attività più comune è estrarre dati dall'html esistono diverse librerie che fanno questo c'è beautiful soap che però ha problemi di performance e di velocità insomma un po' lento e poi c'è lxml Scrapi ha un proprio meccanismo per l'estrazione dei dati chiamato selector appunto perché selezionano alcune parti del documento html grazie a espressioni xpart o css questi qua sono degli esempi quindi noi basta che chiamiamo xpart e all'interno mettiamo la string xpart che è un altro linguaggio per selezionare testo all'interno di un xml e ci tira fuori quello che abbiamo richiesto sh consente di chiamare qualsiasi programma come fosse una funzione è da notare che queste non sono funzioni python e stanno eseguendo i comandi eseguibili sul tuo sistema proprio come fa la shell in questo caso incapsula il binario in una funzione e in questo modo tutti i programmi del tuo sistema possono essere facilmente richiamati da python si basa sulle chiamate del sistema unix e funziona sui sistemi operativi simili a unix quindi linux, macOS X e bsd Windows non è supportato Notify è una fornisce automaticamente notifiche desktop che possono servire ad esempio quando abbiamo dei programmi in esecuzione molto lunghi e vogliamo sapere quando terminano e puoi inviare anche notifiche push sul tuo telefono questi sono dei piccoli esempi ad esempio Notify test ti fa apparire la notifica con scritto test oppure Notify done quando termina il programma LIT10 allora viene notificata la sua terminazione con un'altra notifica attraverso varie dipendenze dipendenze extra supporta diverse cose tra cui l'emoticon, il protocollo XMPP Telegram, Slack e RocketChat e anche altre dipendenze Pydantic esegue la convaglia dei dati e rinforza praticamente i type ins e quando fallisce la validazione stampa degli errori user friendly qua ad esempio c'è una classe che deve essere invocata con un id che è un intero un name in cui c'è anche il valore di default segniamo time ts è opzionale è un day time e friends è una lista di interi se invocassi quella classe in questo modo ci sono dei parametri sbagliati per esempio al timestamp ho passato una stringa e friends c'è un array in cui un elemento non è un intero vedremo l'output che è questo qui quindi è molto descrittivo e di facile comprensione ci dice che id è un parametro obbligatorio e noi l'abbiamo passato mentre segniamo ts è un formato non valido di date time inoltre in friends c'è un valore che non è intero NetworkX viene usato per la creazione e manipolazione dei grafi con NetworkX puoi caricare e salvare grafi in formati dati standard e non generare molti tipi di reti analizzarne la struttura costruire modelli progettare nuovi algoritmi di rete disegnarli e molto altro questo qui è un piccolo esempio si crea un oggetto G e si aggiungono i nodi e gli archi e ovviamente supporta anche gli archi pesati oppure vari attributi sui nodi ok vi faccio vedere un altro esempio questo codice crea un grafo dove gli archi hanno tutti un colore diverso è come se fosse una stella è come se fosse una stella questo grafo e dopo lui con plot show ce lo fa ce lo fa vedere ci fa vedere le immagini che ha creato e questo qui è il risultato del codice NetworkX non è soltanto utilizzato da informatici ma anche da matematici fisici biologi e chi studia le scienze sociali prompt toolkit serve per costruire interfaccia common line carine insomma con vari effetti supporta la colorazione quindi syntax highlighting multi line editing completamente automatico selezione del testo per copia e incolla supporto del mouse per il posizionamento e lo scroll e suggerimenti automatici ricerche in avanti e indietro e funziona anche bene molto bene con i caratteri unicode è close platform gira su linux o osx openbsd e windows e può essere anche eseguito dietro un server tenet o ssh oppure anche in un processo async a.io ok questo qua è un piccolo esempio per quanto riguarda lato completamento c'è una lista di item che lui diciamo si aspetta e questo qua diciamo è come viene visualizzato per quanto riguarda lato completamento si può selezionare dalla lista hashimatics aiuta le persone a creare semplici animazioni asci e funziona su tutte le piattaforme queste animazioni supportano testo consigli e colori posizionamento del cursore input da tastiera o da mouse supporta anche il ridimensionamento della console e screen scrapping inoltre fornisce un API per chiamate insomma più ad alto livello che aggiungono altre funzionalità come disegnare delle linee conversione di immagini in asci e altri effetti di animazioni e vari widget per il testo attualmente è testata su centos radian, ubuntu, windows e osx però dovrebbe funzionare su qualsiasi piattaforma che fornisce un'implementazione di cartis questo qui è un esempio dove viene stampato la scritta hashimatics e rox con un fonte molto grande e c'è un effetto questo qui è l'output però è un'immagine fissa in realtà quelle stelle brillano e si accendono pretty table serve per stampare una tabella in modo asci come quello che diciamo utilizza il client MySQL per la creazione della tabella si crea un oggetto pretty table esistono vari modi per inserire dati o riga per riga o tutte le righe insieme o per colonna o import da csv oppure da database core cursor è possibile anche cancellare dati questo qui è se ne stampiamo l'oggetto x che abbiamo creato questo qui è quello che vedremo a video per la visualizzazione della tabella inoltre si possono anche selezionare alcune colonne o righe da visualizzare modificare l'ordine delle colonne ordinare le righe e cambiare lo stile della tabella the foots è date due stringhe calcola la distanza di Levenstein che è la misura di quanto le stringhe sono simili quindi usarla è semplicissimo basta invocarla con le due stringhe e ti tira fuori un valore che ci indica quanto le stringhe sono simili esistono anche vari tipi di distanze questa è quella più semplice poi c'è quella parziale quella con i token questo qui è possibile utilizzarlo ad esempio se il nostro programma accetta dei comandi e magari scriviamo male il comando e invece di un messaggio generico comando non trovato potremmo dire forse intendevi dire questo progress baddur 2 crea una barra di avanzamento testuale e in genere si utilizza per visualizzare lo stato di avanzamento di un'operazione molto lunga e anche per indicare che il programma ancora in esecuzione non si è bloccato è un fork di un vecchio progetto che si chiama progress bar che non è più mantenuto però è compatibile con l'originale e così se abbiamo anche un vecchio programma che utilizza che utilizza progress bar possiamo semplicemente sostituirlo con questo nuovo che dovrebbe continuare a funzionare si installa con pip progress bar 2 però si utilizza con import progress bar è molto semplice da utilizzare però anche molto potente supporta il ridimensionamento automatico e per utilizzarlo basta metterlo nel for invece invocare progress bar con il nostro range oppure gli item che vogliamo ciclare e lui in automatico crea la barra che vediamo sotto doc test è un modulo che cerca parti di testo che sembrano sessioni python python interattive li esegue e verifica che funzionino correttamente viene utilizzato per verificare che le doc string di un modulo siano aggiornate e tutti gli esempi interattivi funzionano ancora come documentato può essere utilizzato anche per seguire test di regressione oppure per scrivere il tutorial di un pacchetto un'altra semplice applicazione è che noi possiamo passare un file di testo e lui lo lo scansiona e alla ricerca di codice python e lo esegue può essere invocato anche da linea di comando si può utilizzare interprete python per eseguire il modulo doc test e passare il nome del file questo qui è l'output che otteniamo ha trovato un errore è fatto tale di 6 c'era scritto che era 120 invece il risultato corretto è 720 pilov è una libreria per la manipolazione delle immagini ha una rappresentazione interna molto efficiente e buona capacità di elaborazione delle immagini questo è un esempio per creare una thumbnail da un'immagine e converte le immagini tra formati diversi ne puoi seguire può stamparle e applicare dei filtri possiamo anche applicare altre trasformazioni come rotazione o ridimensionamento request futures è un add-on di python che estende estende la libreria request che cosa cioè quello che introduce è il parallelismo praticamente se noi gli forniamo più url esegue le getto le post in parallelo di default crea 8 worker però è possibile modificare il numero di worker e quindi è più veloce se abbiamo tante url da scaricare behave è uno sviluppo basato sui behave or driven o bdd che è una tecnica di sviluppo software che incoraggia la collaborazione tra sviluppatori qua e persone non tecniche behave or usa test iscritti con il linguaggio naturale vediamo subito un esempio questo qua è una descrizione di quello che vogliamo faccia il nostro programma e ci sono delle parole chiave però alla fine è una descrizione che può fare chiunque anche un non programmatore e il codice che andremo a implementare semplicemente implementa le varie azioni descritte da quel file lì e dopo lanciando questo comando behave ci dice se il nostro codice ha passato tutti copre tutti quanti i scenari che abbiamo definito sched fa parte di una libreria standard può essere utilizzato per la creazione di bot o applicazioni di monitoraggio e automazione praticamente implementa quello che è il cronio di linux questo qua è un piccolo esempio e per ultimo voglio farvi vedere Pony che è un SQL ORM Object Relational Map scusate è una degna alternativa di SQL e Alchemy è molto intuitivo supporta edp più popolari SQLite Postgres MySQL e Oracle e è stabile implementa un suo linguaggio per eseguire le query è molto simile al codice Python e la prima riga è una query scritta con in Pony e quella sotto è la stessa query in MySQL quindi è molto più conciso e semplice da comprendere e supporta anche le funzioni Lambda quindi è la stessa query che vedete sopra può essere scritta anche utilizzando le funzioni Lambda in modo ancora più conciso grazie a tutti grazie a tutti non abbiamo tempo per domande ma se potete trovare dopo su Discord va bene ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti